a prova a calciare e c'è il gol di Sinodal spettacolo armato in rete con questa confusione che siamo rivedenti, bellissimi può contare sull'aiuto di coltanti prova il tiro e c'è il gol di Sinodal non so se volesse mettere la propria oliviera fatto sta che ne è uscita poi una confusione di rara confusione azione che si fa interessante attraverza e gol e sicuramente è perfetta da distanza bambini, prendete nota cerca la rete e c'è il gol di Sinodal allora è buono questo Sinodal ci pensa a lui spugge bene la barcatura lascia partire il tiro Sinodal ci pensa a lui prova un gol di Sinodal c'è il tiro e c'è il gol di Sinodal Gino Ci pezza lui Una confusione che merita di essere rivista Potenti, precisione E un pizzico di calacolta La gioca luce Trova a andare Un colpo alla bilia Dove il pallone in rete Va in tiro Gino Ci pezza lui E c'è il gol di Leo Poi metterla da lì Conclusione perfetta, angolata In buca d'angolo Imparabile per il portiere Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti